Lettura di Uno Stato d'Animo, Memoria del Tempo e Comportamenti Urbani nel Mondo Comunale Italiano di Roberto Bordone, pubblicato da Firenze University Press per Reti Medievali, disponibile in download al link in descrizione. Parte prima. Il Tempo e la Memoria. Capitolo 1. La Memoria del Tempo nell'età del Barbarossa. La percezione del progressivo trascorrere del tempo è insita nella natura dell'uomo che tende a rapportarlo alle fasi della propria esistenza, periodizzandolo in base al ricordo delle esperienze vissute. La memoria personale svolge una funzione ineludibile nella formazione di sequenze temporali relative alla vita di ognuno, sequenze per così dire elementari che prescindono dalla vera e propria coscienza di un tempo in cui si collocano anche le vicende degli altri. La coscienza del tempo, in questo significato sociale e storico per eccellenza, appare così un fenomeno indotto, frutto dell'ambiente, della cultura e della mentalità in cui ciascuno vive. La memoria personale si interseca a questo punto con la memoria collettiva, si intreccia in modo indissolubile con essa. Abbastanza agevole appare indagare su che cosa incida su tale operazione in tempi vicino a noi, per la gran massa di informazioni in nostro possesso e per gli strumenti disponibili di tipo sociologico atti a interpretarle. Le cose cambiano notevolmente se si sposta l'attenzione verso un passato che ha lasciato scarsissime tracce di ciò che definiamo opinione pubblica. In questo caso, infatti, occorre ricostruire il tessuto stesso della periodizzazione corrente, ponendo attenzione nel distinguerla da quella colta, cercando di cogliere i meccanismi che portano a evidenziare alcuni avvenimenti e indicatori temporali ai quali si rapportano le esperienze personali. Per ciò che concerne il Medioevo in particolare, la maggior parte della documentazione relativa alla memoria e alla periodizzazione del tempo consiste nella produzione cronachistica municipale, tradizionalmente oggetto di studio da parte degli storici. Ma il cronista, anche il più modesto, è in ogni caso un intellettuale che deliberatamente si accinge a narrare degli avvenimenti, quasi sempre sulla base di una documentazione scritta preesistente, inserendoli in un ben meditato quadro cronologico. Si può discutere sulle sue scelte e sul tipo di selezione che opera fra le informazioni a sua disposizione, ma non si può certo equiparare la sua percezione e organizzazione del tempo storico con quella di un villano illetterato e neppure con quella di un funzionario del comune che non faccia professione di cronista. Diverso è infatti l'uso che viene fatto della periodizzazione. Quando Ottone Morena, giudice di Lodi e cronista del Barbarossa, scrive «Venne il signore Federico, re in Lombardia, nel mese di novembre dell'anno 1154, la seconda indizione, usa una precisa indicazione cronologica per collocare nel tempo un evento rilevante, la prima discesa del Barbarossa in Italia. Quando uno scuro villano, chiamato a testimoniare, afferma che «Dopo la venuta del signore imperatore in Lombardia, vidi i pavesi, venire a Monticelli, a raccogliere il giovatico nel detto luogo», è chiaro che usa il medesimo evento rilevante come indicazione cronologica per collocare un fatto di interesse pratico, l'inizio della dominazione pavese nel suo villaggio. Rispetto al cronista per il quale gli avvenimenti si dispongono nel corso progressivo degli anni dell'incarnazione, la prospettiva si potrebbe dire capovolta per il villano, per il quale la discesa del Barbarossa diventa l'indicatore temporale che stabilisce un prima e un dopo rispetto a cui è inizio la dominazione di Pavia sul suo villaggio. Domandiamoci, è possibile cogliere una percezione del tempo che non sia quella del cronista? In modo sistematico e compiuto probabilmente no, per la mancanza di informazioni diffuse, ma episodicamente non mancano per l'Italia fonti in grado di riferirci l'opinione diretta dei ceti incolti o comunque di coloro che non meditavano professionalmente sul tempo. Si tratta di un tipo particolare di fonte, la raccolta delle deposizioni testimoniali effettuata nel corso di controverse giudiziarie. Il loro utilizzo in sede storiografica ha prodotto risultati di notevole interesse e sarebbe auspicabile estenderne l'analisi area per area al fine di poter raccogliere in un quadro complessivo queste preziose testimonianze di storia della mentalità. Un valido contributo in questa direzione è stato fornito dal saggio di Jean-Pierre Delumont, dedicato alla memoria delle genti di Arezzo e Siena, attraverso l'analisi di due lunghe raccolte di testimonianze toscane del 715 e del 1177-1180. Dalla seconda in particolare è possibile ricavare buoni elementi statistici sulla memoria del tempo, sugli eventi indicatori temporali e sulla visione dei fatti, in quanto sono verbalizzati quasi 100 deposizioni relative a una lite territoriale fra il Vescovo di Arezzo e quello di Siena. Una raccolta analoga di pochi anni posteriore a quella retina riguarda cinque località dell'oltrepo pavese in contestazione nel 1184 fra il comune di Pavia e quello di Piacenza. Per addivenire una designazione definitiva dei confini, gli arbitri raccolsero quasi un centinaio di testimonianze giurate da entrambe le parti, 81 delle quali sono state conservate in 14 lunghe pergamene, edite nel 1909 da Luigi Cesare Bollea. Agli stessi anni risalgono anche una raccolta di deposizioni relative al possesso di un ponte con nesso ospedale, rivendicato nel 1183 dal Vescovo di Tortona e sito presso Voghera, e altre due raccolte degli anni 1185-1186 che riguardano i diritti di un monastero pavese sul territorio di Villanova d'Asti. In entrambi i casi il numero delle testimonianze è molto inferiore rispetto al precedente, ma le fonti sono ugualmente interessanti perché coeve e della medesima area dell'Italia nord-occidentale. Un comune filo conduttore lega fra loro gli oltre 100 testimoni che sfilano davanti ai notai per esporre le loro memorie del tempo e rende preziosi ai fini che ci siamo proposti questi tre blocchi di documentazione. In tutti e tre i casi, infatti, gli interrogati devono rispondere alla domanda, da quanto tempo in questo luogo vengono esercitati i diritti, da uno dei due comuni o dal Vescovo o dal monastero. Il tempo precedente all'inchiesta corrisponde in gran parte a quello contrassegnato in Lombardia dalla minacciosa presenza del Barbarossa, e dunque molteplici sono le possibilità che tali testimonianze offrono, perché consentono spesso la verifica degli avvenimenti indicatori a cui gli interrogati fanno riferimento. Illuminano sull'atteggiamento dei contemporanei, cittadini e villani, nei confronti di un periodo difficile e violento in cui sono stati coinvolti, restituiscono almeno in parte il tipo di periodizzazione accolto da quella che abbiamo definito opinione pubblica, intrecciando memorie personali con memoria collettiva nel costruire sequenze temporali presumibilmente coerenti, ancorché finalizzati all'accertamento di consuetudini istituzionali. I narratori, infatti, non sono cronisti delle vicende comunali o delle imprese belliche del Barbarossa, e la loro cronaca semmai riguarda episodi circoscritti di cui sono stati testimoni o semplici uditori, episodi che attestano le situazioni di fatto e segni di una prevalenza giurisdizionale, ma la richiesta da parte degli inquisitori di collocare nel tempo tali episodi sollecita la memoria a collegarli con una grandezza temporale o con il riferimento a un evento conosciuto da tutti, o ancora con il ricorso a entrambi i criteri contemporaneamente. Nessuno, in oltre 100 deposizioni, si riferisce all'anno domini, al preciso millesimo usato dai cronisti. E neppure viene dichiarata la propria età, come invece succede con grande frequenza, nonostante le oscillazioni nel manifestarla, nelle testimonianze toscane studiate dal Delumo. Ciò non toglie, tuttavia, che la memoria sia almeno apparentemente precisa e circostanziata nel computo degli anni trascorsi. Là dove ci si aspetterebbe un'indicazione approssimativa, espressa a decine intere, si trova invece un numero preciso di anni, 18 anni, 27 anni fa, che una verifica, dove possibile, spesso conferma esatto. Appare evidente che, fatte le debite riserve e accertati gli inevitabili errori e approssimazioni, ci troviamo di fronte a forme di periodizzazione funzionali e a tecniche di computo e di memorizzazione largamente diffuse a tutti i livelli, pur prescindendo dall'uso del millesimo. Pretendere oggi di ricostruire quei meccanismi è impresa disperata per i profondi mutamenti intercorsi a livello anche di consuetudini mentali, campo inesplorato e inesplorabile sulla cui soglia la prudenza invita ad arrestarci. Più proficuo pare, invece, raggruppare le testimonianze a seconda di alcuni semplici criteri intrinseci rappresentati dal riferimento a fasi della propria esistenza, dal riferimento ad eventi locali, atmosferici o politico-istituzionali e ad eventi politico-militari di conoscenza generale e considerare criteri estrinseci la provenienza urbana o rurale dei testimoni, la loro attività o cetosociale. Sulla base di questi criteri sarà forse possibile distinguere quali eventi incidano maggiormente sulla memoria, quale soglia raggiunga all'indietro il ricordo del passato, se esistano distinzioni fra memoria collettiva urbana e memoria collettiva rurale. Resta ancora una premessa che riguarda la precisione delle collocazioni temporali e l'attendibilità delle testimonianze, valutazione non sempre possibile ma in alcuni casi verificabile per la presenza di altre fonti di informazioni che consentono datazioni esatte. Al di là della reale percezione del tempo, non bisogna infatti dimenticare che le testimonianze raccolte riguardano un dibattito giudiziario in cui sono in gioco interessi che possono anche coinvolgere i testimoni stessi. Eloquente a questo proposito appare infatti la deposizione del signore locale di Mondonico che ricorda come il padre gli avesse raccomandato di giurare, sulla sua anima se fosse stato necessario, che i pavesi non avevano nessun diritto in Mondonico ma che apparteneva al distretto e al comitato di Piacenza. Analogamente, le deposizioni dei dipendenti monastici nel caso di Villanova o dei funzionari del Vescovo di Tortona non possono non lasciare adito a qualche legittima sospicione sulla loro attendibilità. Così pure certe amnesie di testimoni altrimenti particolarmente loquaci. Certi non ricordo in risposta a domande circostanziate sollevano non poche perplessità, anche se è sempre difficile distinguere la reticenza dall'oggettiva ignoranza dei fatti. Ciò nonostante, gli interpellati in generale parlano senza difficoltà, coloriscono i fatti riportando col discorso diretto frasi udite personalmente o sentite riferire. Spesso si appellano alla pubblica vox o alla fama circolante fra gli abitanti. Non tutti i tipi di riferimenti, fasi biologiche, eventi meteorologici, eventi politici locali e generali hanno la medesima frequenza nei testimoni lombardi e si può dire che una vistosa prevalenza venga assegnata agli eventi sia locali sia generali di carattere politico-militare. Sono infatti gli episodi di violenza, le distruzioni e gli incendi, le razzie e le ritorsioni a scandire la memoria del tragico tempo del Barbarossa. Questi fatti, sia in città sia nel contado, fanno passare in secondo piano i riferimenti alle fasi della propria esistenza e persino le perturbazioni atmosferiche che in un società rurale e in altri periodi non sfuggono neppure al cronista municipale. Appare significativo che nel centinaio di testimonianze esaminate soltanto due facciano menzione della grande nevicata a Magnanix dell'inverno 1178-1179 e tre ricordino un'alluvione del Po del principio degli anni 70. Nessuno dei piacentini, ad esempio, pur riferendosi col computo numerico degli anni al 1180-1181, fa menzione delle piogge che per tutta l'annata quasi ininterrottamente caddero sulla zona, come riferisce il cronista degli Annales. La violenza degli uomini rimase certo più impressa di quella della natura nella memoria collettiva di quegli anni e il suo periodico ricorrere fornì un più incisivo indicatore temporale anche per le conseguenze politiche che ragionava. Sia nell'Oltrepo sia nell'Astigiano, le distruzioni operate dal Barbarossa verso le città che gli si opponevano si diffondono infatti come indicatori temporali, non soltanto per la gravità dell'avvenimento, ma in alcuni casi anche per il mutamento di situazione che portano con sé. Le distruzioni di Tortona, di Milano e di Asti, oltre a essere momenti shock, segnano anche la prevalenza degli alleati del Barbarossa nell'esercizio del predominio locale. I pavisi nell'Oltrepo, a danno dei piacentini o semplicemente a danno delle autonomie e delle consuetudini locali, il conte di Biandrate a Villanova nel prevaricare i diritti delle monache. L'evento indicatore in questi casi non appare episodico, ma diventa il principio di un nuovo corso del tempo, caratterizzato da un mutamento istituzionale e spesso circoscritto fra due eventi bellici. Quanto premesso non significa tuttavia che i riferimenti alle fasi della propria esistenza e il computo numerico degli anni trascorsi vengano esclusi dalla periodizzazione popolare. Accade anzi che talvolta i due criteri si intrecino. Un testimone interrogato sulla priorità di dominio dei pavisi rispetto ai piacentini nel luogo di San Marzano afferma di ricordare che il fratello maggiore fu fatto console locale per Pavia e allora era piccolo e custodiva le bestie e ricorda la distruzione di Tortona. L'indicatore temporale della propria età biologica è dato anche dall'attività svolta, ma si collega con un evento databile a cui risalgono i suoi ricordi. In altri due casi della deposizione, relativi alla contribuzione di spese di manutenzione dei fossati di Piacenza, il medesimo non è in grado di determinare il tempo. La sola altra indicazione cronologica del teste è quella dell'assedio di Alessandria, momento del quale pavisi e piacentini eleggono contemporaneamente consoli nel medesimo luogo. Un analogo caso di riferimento alla propria infanzia, ma meno generico, riguarda la deposizione nella causa del vescovo di Tortona di una donna che afferma di aver visto costruire il ponte in discussione perché abitava nei pressi con padre e madre, e specifica, andavo con le altre fanciulle al ponte stesso a portare legname. Interrogata a che tempo si riferisse, risponde che si trattava di circa 40 anni prima. In questo caso la memoria dell'infanzia è collocata in un passato individuato dal computo numerico, la cui attendibilità è confermata da un'altra testimonianza diretta di lavoro, anche se non più collegata a una fase biologica. Io so, afferma infatti un altro, che Giovanni Ravaiolo edificò per primo il ponte e io lavorai per lui, credo che fossero più di 30 anni fa e meno di 50. Formula di computo diffusa anche nelle testimonianze del trepò, che convalida nella sua approssimazione l'indicazione della testa precedente. Un'ultima possibilità di individuazione temporale di un evento in base a un riferimento alle fasi dell'esistenza può essere data dall'indicazione dell'età, non del testimone, ma di altra persona conosciuta. È quanto accade nella medesima causa tortonese a chi riporta il curioso episodio del sacerdote che ora abita a Sant'Ilario, che quando era o chierico o studente, assalì alcune persone che andavano al mercato e le depredò, e ciò successe più di 12 anni fa. L'indicazione del numero degli anni trascorsi integra il riferimento già sufficiente all'età giovanile del singolare prete di Sant'Ilario. Anche in ambito toscano, ha rilevato il Delumont, il ricordo del periodo di formazione è presente con frequenza presso gli uomini di chiesa, che parlano di quando erano cituli o scolares. Sulla base di tali esempi si può osservare che nelle testimonianze considerate l'unica fase dell'esistenza ricordata come indicatore temporale è l'infanzia o la prima adolescenza. Nessuno, infatti, anche riportando testimonianze di partecipazione diretta a episodi salienti o comunque considerati tali, precisa l'età che aveva, salvo nel caso in cui fosse stato parvus puella scolaris. Questo probabilmente accade per attestare il termine che funge da soglia della memoria, in grado di coprire l'arco di tempo che va dall'infanzia fino al presente. Lo stesso meccanismo avviene presso i testimoni lombardi con la dichiarazione preliminare, apparentemente strana alla causa, della più antica memoria ricordata, premessa che in Toscana non appare necessaria dal momento che quasi tutti dichiarano la propria età, denunciando implicitamente una memoria retrospettiva corrispondente. Organizzando questi dati, espressi in numero di anni o con lo riferimento a un episodio conosciuto da tutti, troviamo che la soglia massima risale a 60 anni prima, al di là dei quali la memoria diretta non giunge. C'è uno scarto di circa 20 anni rispetto alla situazione toscana, dove, alla domanda di indicare il vescovo più antico che ricordavano, alcuni che si dichiarano centenari, risalgono a memoria di 80 anni prima. Nei casi lombardi, il questionario a cui i testi rispondono appare più approssimativo, perché non viene mai richiesta nell'età attuale né l'età che avevano al momento dei fatti evocati. Tuttavia, almeno due dichiaranti dell'Oltrepo sembrano essere otogenari, dal momento che risalgono con i loro ricordi diretti circa 60 anni prima. Quando i marchesi Malaspina fecero cambio con i pallavicino, circa 60 anni fa, andai con loro a riscuotere l'albergaria di Monticelli, dichiara un testimone, ma informati che i piacentini ci avrebbero espulsi, ce ne andammo prima di pranzo. Circa 60 anni fa, afferma un altro, vidi i cavalieri del marchese Malaspina andare armati e dicevano di aver pernottato per diritto di albergaria nella pieve di Parpanese, ma volendo essere albergati la mattina dopo a Ulmo, dicevano di esserne stati impediti. Colpisce, in un ricordo così antico, il preciso riferimento ai momenti della giornata, anche se è spiegabile con la partecipazione diretta ai fatti e al significato che assumono nell'economia del discorso. Anche in casi diversi, d'altra parte, può accadere che il testimone ricordi la stagione dell'anno o il momento del giorno, pur non essendo in grado di precisare il tempo in cui l'avvenimento accadde. Memoria antica ancora più circostanziata di quella dei due autuagenari, denuncia un cittadino di Tortona chiamato a testimoniare nella causa relativa al diritto del vescovo sul ponte presso Voghera. Egli, infatti, è in grado non solo di risalire indietro di 56 anni, ma anche di articolare questo lasso di tempo con la precisa successione dei vescovi tortonesi. Ricordo che il signore Lombardo fu vescovo di Tortona, e dopo di lui il signore Pietro, mio fratello, e dopo di lui il signore Guglielmo, e dopo questi il signore Uberto, e vidi il predetto signore Lombardo tenere e possedere l'episcopato e il comitato di Tortona, e in particolare Voghera e Porta Sant'Ilario, per sei anni senza opposizioni. E vidi il vescovo Pietro tenere tutto ciò per 24 anni, e il vescovo Guglielmo per 18, e il vescovo Uberto per 8. Si tratta probabilmente di un caso particolare, poiché nella sua stessa affermazione il teste appare appartenere a una famiglia di rilievo da cui è uscito un vescovo, e senz'altro egli ha partecipato anche in seguito alla corte vescovile, ma attesta comunque una precisione non comune nel rievocare addirittura la durata degli episcopati, durata che, sulla base di documentazione diretta, risulta essere sostanzialmente esatta. A 50 anni prima fanno iniziare i loro ricordi i due testimoni dell'Oltrepo e un testimone dell'Astigiano. A più di 46 anni risale la memoria di un piacentino che riporta il ricordo personale di aver tenuto il palafreno di un console durante un placido. Altri fatti riportati dal medesimo sono collocati con indicazioni precise. 36 anni alla spedizione di Corticelle, 47 da quella contro Parma in cui morì il console Bicurra Cane. All'indietro per 40 anni si risalgono le memorie di sei testimoni tra Pavia e Piacenza e di tre dell'Astigiano. Una decina di testimoni in tutto risale nel ricordo 30 anni prima, espressi col computo numerico, ricordo che 30 anni fa, ma in forma di gran lunga superiore al computo degli anni trascorsi, il tempo corrispondente a 30 anni prima viene caratterizzato con il ricorso agli eventi politico-militari che profondamente colpirono la memoria dei Lombardi, la discesa del Barbarossa e specialmente la distruzione di Tortona. Datano infatti che un espresso riferimento alla distruzione di Tortona, talvolta utilizzata come indicazione di soglia, ben 14 testimoni dell'Oltrepo. Solo quella di Milano ne conterà un numero maggiore. Il ricorso all'evento indicatore temporale di carattere politico-militare per il periodo che precede la discesa del Barbarossa è meno diffuso, anche per il minor numero di testimoni in grado di conservarne la memoria, mentre è assente in ambito astigiano. Fra Pavia e Piacenza i ricordi sono tuttavia sufficienti per ricostruire una cronologia basata sulle spedizioni militari piacentine. Anche se è necessario distinguere a questo proposito il riferimento esclusivamente temporale, estraneo alla causa di battuta ma utile per collocare nel tempo determinati ricordi, dall'evento pertinente alla determinazione giuridica dei villaggi in contestazione. Entrambi i casi consentono di verificare la precisione nel collocare gli avvenimenti. Mentre si possono considerare veri eventi indicatori la venuta di Lotario, ricordata da tre testimoni, e la sconfitta di Tabiano, utilizzata da quattro testi come riferimento cronologico, negli altri casi le spedizioni vengono datate col computo degli anni. La più antica, ad esempio, è quella di Nuceto, ed è datata dagli Annales all'anno 1131, mentre uno dei testimoni che vi fa riferimento la colloca genericamente a più di 45 anni fa, cioè prima del 1139, non allontanandosi troppo dalla data esatta. Analoga oscillazione si riscontra in occasione di una certa spedizione che i piacentini fecero contro Parma, nella quale morì Biguracane, meglio specificata da un altro come la spedizione di collegio. Il primo testimone è la data circa 47 anni prima, cioè nel 1137. Gli altri due a circa 40 anni prima, cioè verso il 1144. Secondo il cronista, la sconfitta a Tabiani avviene nel giugno del 1149. Un piacentino che in quell'anno era console della Valtidone, crede che sia avvenuta 30 anni prima, cioè nel 1154. In tutti questi casi che riguardano un periodo oggettivamente lontano nel tempo, lo scarto fra la collocazione popolare e quella reale non supera comunque il decennio. Al di là della soglia dei 60 anni indietro, il computo del tempo tuttavia si arresta, sia per mancanze di testimonianze dirette, sia per insufficiente precisione nel collocare nel tempo i ricordi tramandati dalle generazioni precedenti. Si prenda come esempio, nella causa di battuta a Pavia, un episodio ricorrente nelle testimonianze che doveva aver colpito l'immaginazione dei contemporanei, ma che nessuno è in grado di datare. Si tratta di un duello giudiziario combattuto fra il campione del vescovo di Papia e quello del vescovo di Piacenza, per delimitare i confini fra le due diocesi, vinto dal rappresentante pavese e terminato con la posa di una pietra confinare fra i due territori, ancora esistente al momento dell'inchiesta. Su nove testi che riportano l'episodio, quattro denunciano come fonte di informazione di averlo udito narrare da numerosi uomini e donne di San Marzano, dal padre suo e da altri vecchi, dai vecchi del luogo, dai vecchi di San Marzano e l'ultimo aggiunge che tale è la comune fama del luogo. Il prete di San Marzano sa che avvenne un duello fra i due vescovi e che vinse quello di Pavia, ma ne ignora la causa. Tre altri testi chiariscono invece che si trattava della divisione territoriale fra i due comitati. Uno non ricorda se udì dire che si trattasse dei comitati o della terra di San Siro. L'ultimo, infine, udì che il duello non fu fatto per i comitati, ma soltanto per il territorio di San Marzano. Quattro ricordano anche il nome del campione pavese. Si trattava di Pagano Gastaldo di Rovoscalla e un test aggiunse che dicono che i conti di Rovoscalla gli diedero in premio un feudo per aver vinto il duello e che tale feudo i suoi discendenti ancora tengono. Come si può notare, la trasmissione della memoria su fatti non databili appare lacunosa e talvolta imprecisa, al punto di dare adito a contraddizioni, anche se sopravvive una comune fama sostanziale attendibile nella sua schematicità. Il computo del tempo diventa più preciso quando ci si riferisce invece agli ultimi 25-30 anni e più vistoso appare per questo periodo il ricorso agli eventi indicatori di tipo politico-militare, sia generale sia locali. Limitandoci ai testimoni della causa fra Pavia e Piacenza, possiamo senz'altro affermare che l'episodio che maggiormente ha colpito l'immaginazione popolare dei Lombardi sia stato l'assedio e la distruzione di Bilano. Ben 24 volte la distruzione appare come evento indicatore in base al quale si collocano i fatti secondo precise indicazioni di anni ante o post e 8 volte analogo a funzione svolge il riferimento all'assedio. La centralità del caso milanese appare anche nel ricorso per 5 volte alla sua ricostruzione e non manca chi per indicare al periodo 1163-1167 ricorre all'espressione nel tempo in cui Milano stava nei borghi. Al principio degli anni Ottanta Milano viene infine identificata con la stessa Lega Lombarda secondo l'illuminante errore di un testimone che colloca a Milano stessa una sessione della Lega tenutasi invece a Lodi nel 1173. I riferimenti alla Lega sono in tutto 16 sia come elemento di datazione sia in merito agli interventi dei rectores in relazione ai villaggi di incontestazione nella causa del 1184. In un solo caso, ma che denuncia una chiara coscienza degli eventi, la datazione avviene riferendosi al tempo in cui fu fatta la Lega delle città lombarde. Mentre per la battaglia di Legnano e per la pace di Venezia c'è rispettivamente una sola citazione, con notevole frequenza ai fini della datazione ricorre l'assedio di Alessandria, ricordato per 12 volte come elemento a cui riferirsi per indicare il tempo precedente o seguente. Anche in questa scelta gioca, come già abbiamo ricordato, il significato di principio di un mutamento politico che l'avvenimento assume per la prevalenza dei nemici del Papa Rossa e non a caso il decennio 1163-1174 viene indicato da un testimone che intende rimarcare una temporanea debolezza dei piacentini come il tempo dopo la distruzione di Milano e prima dell'assedio di Alessandria. Un equivalente numero di citazioni hanno soltanto altri fatti che, pur non essendo esclusivamente locali, sono in modo più diretto collegati con l'area in cui vivono i testimoni, cioè la podestaria piacentina di Arnaldo Barbavaira e gli incendi operati nel piacentino dall'imperatore nel settembre 1167. Di interesse prevalentemente locale e per noi più difficili da datare sono infine i riferimenti alle singole distruzioni operate nel contado dai raids alterni delle truppe imperiali e pavesi e da quelle della Lega, anche se è ben comprensibile come si impremessero nella memoria delle vittime del continuo clima di violenza scatenato da due parti in conflitto. Alla generica indicazione al tempo della guerra fa infatto spesso ha seguito la circostanziata specificazione quando fu distrutta la tal torre o quando venne incendiato per la prima o per la seconda volta il tal villaggio. Un fatto in fondo locale ma accaduto al di fuori della zona in cui risiedono i testimoni, che appare statisticamente rilevante come evento indicatore in quanto è utilizzato in undici deposizioni, è la battaglia combattuta dai piacentini a mombello nel 1172 contro il marchese di Monferrato, nella quale trova la morte il console Guglielmo Malvicino, ben noto ai villani per le sue pretese di comando sui villaggi di confine. La morte di un console in combattimento, come nel caso già ricordato di Bigura Cane a collegio, è sempre un evento che si incide con vigore nella memoria popolare, al punto che spesso succede che venga ricordato come un indicatore avulso dal preciso fatto d'arma in cui è accaduto, sicché si dice l'anno in cui Malvicino morì in Monferrato, per indicare il 1172. Con quale margine di precisione questi eventi e riferimento vengono collocati nel tempo storico dal momento che fasi così caotiche e ricorrenti si susseguono nell'arco di 30 anni? Ebbene, proprio per la loro stessa notorietà, rarissime sono le indicazioni complementari espresse col computo numerico degli anni. Nei pochi casi accertabili, tuttavia, la memoria risulta abbastanza precisa. Un test che era stato console delle comunità d'oltre trebbia per conto del comune di Piacenza, nel tempo in cui l'imperatore assediva a Milano, ritiene che si trattasse di 25-26 anni prima, cioè il 1158-1159, come infatti risulta. Un altro, che era stato nei villaggi in contestazione insieme col console Malvicino l'anno in cui questi morì in Monferrato, dichiara che si trattava di circa 12 anni prima, con piena corrispondenza alla realtà, 1172. C'è da concludere che la memoria degli eventi verificatesi negli ultimi decenni difficilmente erasse nel collocale nel tempo, e ciò conferma l'esatta percezione che di esso si aveva in Lombardia, come già risultava per il periodo più antico, per il quale le oscillazioni nel datare agli eventi rientravano entro margini più che accettabili. Abbiamo finora considerato una serie di criteri generali per la scansione del tempo, basati su eventi della propria vita biologica e soprattutto su avvenimenti politico-militari, cercando di verificare allo stesso momento la precisione di cui tali criteri erano dotati nell'individuare gli anni equivalenti al computo in millesimi. Il sistema degli avvenimenti indicatori scelti fra i più noti, di quelli che per la gravità che rivestono interessano l'area abitata dai testimoni o addirittura l'intera Lombardia, non esaurisce tuttavia le possibilità di individuazione cronologica utilizzate nella seconda metà del XII secolo. Un altro mezzo diffuso è infatti il ricorso alle magistrature comunali, cioè l'indicazione delle persone che annualmente le ricoprono, secondo una forma che trova un illustre precedente e certo sconosciuto a chi le usava nell'antichità classica, ma che non ritorna nella cronachistica locale. Nelle testimonianze pavesi e piacentine, le sole che facciano ricorso a tale criterio sono oltre 50 e le indicazioni relative precisi consolati che individuano l'anno che interessa, oltre a quelle che abbiamo già considerato in precedenza relative alla podesteria in fondo eccezionale del bar Bavaira e ai singoli consoli morti in battaglia. La particolarità di tale indicazione, che implica la conoscenza e la memoria dell'alternarsi dei magistrati, ha suggerito di analizzare i singoli testimoni tenendo conto della loro provenienza e della loro attività, per verificare se era possibile cogliere delle differenze tra la memoria dei villani e quella dei cives, quei cittadini alla cui organizzazione politico-amministrativa rimandava senz'altro il sistema dei consolati. Gli abitanti delle città, cioè di Pavia e di Piacenza, che vengono interrogati, sono tutti legati all'amministrazione comunale e possono dunque informare con cognizione di causa gli inquisitori. Si tratta di servientes dei consoli, di collettori e pontieri, di nunzi e camerari, e non mancano ex consoli. In genere il loro sistema di riferimento temporale consiste nel ricorso agli anni di consolato, anche perché proprio al servizio di quei determinati consoli essi hanno svolto mansioni relative ai villaggi in contestazione. Ciò nonostante colpisce come appare circostanziata la memoria di consolati risalenti anche a 25 o 30 anni prima, tanto per i pavesi quanto per i piacentini, e come i testimoni riescano a costruire sequenze di 4 o 5 consolati, distinguendo, in caso di iterazione di incarico, se si trattasse della prima o dell'ultima volta in cui una certa persona ricopreva il consolato. A integrazione spesso viene indicato a quanti anni prima ci si riferisca o si utilizzi un avvenimento indicatore e i consoli stessi, quando sono in veste di testimoni, ricordano la loro magistratura riferendosi a fatti politici. Per coincidenza, ad esempio, tanto un console di Pavia quanto un console di Piacenza fanno risalire il loro ufficio a quando l'imperatore andò a Roma. Altri consoli pavesi lo datano con la distruzione di Milano. Una significativa fusione dei due sistemi si trova nell'espressione usata da un informatissimo camerario del comune di Piacenza, nel consolato della distruzione di Crema, in cui non compare il nome dei consoli di quell'anno, ma è l'evento a essere attribuito a una porzione di tempo evidentemente scandita dall'alternarsi dei consolati. Nel caso dei villani, l'uso comunale ha inciso in modo notevole, anche se il riferimento è fatto piuttosto che ai consoli del comune cittadino, ai consoli del villaggio o a quei funzionari comunali che sovraintendono al territorio dipendente dalla città e che nelle testimonianze sono definiti consule scomunie. Per quanto riguarda Piacenza è che probabilmente anticipano quelli che saranno i podestà di aree delimitate del contado, di cui si è occupato Pierre Racine a proposito della Valtaro, della Valceno e di Borgo Sandonnino. Tali funzionari erano ben noti agli abitanti delle campagne e ai loro consolati, essi fanno normalmente riferimento. Talvolta ricordano i magistrati della città, specie per quegli anni in cui qualche particolarità si imprime maggiormente nell'immaginazione popolare. Al tempo del consolato dei 13 consoli di Piacenza fanno ad esempio riferimento tra i testimoni del contado, localizzandolo a circa 16 anni prima, cioè il 1168. E anche un nunzio cittadino usa la medesima indicazione, pur attribuendolo a 20 anni prima. Il consolato dei quattro Giovanni è un'altra particolarità che aiuta la memoria, ma si tratta in questo caso di un consolato locale che indica un anno in cui paradossalmente tanto Pavia quanto Piacenza avevano nominato consoli nella stessa località, senza neppure preoccuparsi di deporre quelli nominati dal concorrente. Gli ecclesiastici di campagna denunciano una certa conoscenza dei magistrati cittadini, anche perché talora vi hanno avuto rapporti e qualche volta ricorrono a questo tipo di datazione. Quando invece vi ricorre un villano, subito gli viene domandato come fa a sapere che il tale era console cittadino, al che l'interrogato risponde che così aveva sentito dire dai suoi vicini. Le informazioni di questo tipo circolavano fra i contadini, specie quando i messi comunali venivano nel contado a pretendere il pagamento di imposte in nome dei consoli cittadini e i nomi di certi consoli particolarmente esosi, come il famoso Malvicino morto a Monbello, potevano diventare elementi di datazione alla stregua di violenti eventi bellici. La distinzione fra la città e campagna, per quanto riguarda la memoria collettiva e la scansione del tempo, in base alla lunga serie di testimonianze, non presenta in definitiva sostanziali differenze in questo periodo, se non quelle legate alle diverse esperienze e alla circolazione delle informazioni. Il riferimento alle persone che rappresentano il potere, d'altra parte, non si esaurisce con i consolati. La venuta di Lotario, gli spostamenti del Barbarossa sono ugualmente elementi di datazione e già abbiamo visto come la memoria di un cospicuo personaggio di Tortona riuscisse a risalire indietro di oltre mezzo secolo, attraverso l'esatto susseguirsi dei vescovi. Un dipendente di un monastero pavese a Villanova d'Asti indica dal canto suo un determinato anno come il tempo dell'abbadessa Cecilia, per specificarlo meglio ricorre a un avvenimento politico. Partecipi di un periodo contrassegnato dalla tumultuosa concorrenza a tutti i livelli, non escluso quello più locale, i contemporanei non possono fare a meno di assorbire questo clima diffuso e di assumere le manifestazioni del predominio politico come elemento prevalente del loro immaginario collettivo. Il tempo dunque si snoda nell'esistenza e nella memoria di ognuno principalmente come l'alternarsi di fatti che scaturiscono dalla concorrenza politica. Certamente la discesa del Barbarossa in Lombardia acutizza il processo, trasformando le concorrenze in conflitto di lunga durata, punteggiato di episodi clamorosi che diventano eventi indicatori temporali e seguito da uno strascico di violenza endemica. Ma già in precedenza ciò che rimane impresso nella memoria del tempo è il ricordo delle spedizioni comunali, della sottomissione dei castelli. Non soltanto in quanto fatti bellici, in quanto memorie di lutti e dolori, inconsapevolmente forse la mentalità popolare ricuce l'evento traumatico, quello che segna il tempo, in una trama di scansione temporale il cui ordito era in realtà formato dall'attenzione all'alternanza del predominio. I rappresentanti del potere diventano con la loro vita e con la loro morte i protagonisti della periodizzazione in quanto detentori dell'autorità e davanti a loro sembra passare in secondo piano i fenomeni atmosferici. Certamente questa impressione è enfatizzata dalla natura delle fonti in nostro possesso, che riguarda in maniera esplicita questioni politico-giurisdizionali e dall'interlocutore dei testimoni, verso il quale gli interrogati utilizzano dei riferimenti temporali che si presumono noti a tutti nell'ambito della causa di battuta. Tuttavia non si può negare che da tale selezione degli indicatori temporali emerga una memoria politica vivacemente attenta, più precisa di quanto ci si aspetterebbe nel collocare il ricordo nel tempo reale, né la campagna risulta estranea al medesimo processo rispetto alla città. Tanto nella Lombardia del XII secolo l'intero territorio appare coinvolto nel sistema urbano. Cittadini e villani, ciascuno un gruppo pur con le proprie esperienze specifiche, restano in definitiva accumunati nel percepire il tempo come tempo del potere.